A 16 anni, la maggior parte dei ragazzi si impegnano per imparare a fare un parcheggio parallelo al marciapiede, prendere la patente e comprare una macchina. Jason si impegnava per controllare con cavezze di vento una doppia pariglia di cavalli ardenti. Dopo essersi assicurato che gli amici fossero a bordo e al sicuro sotto coperta, legò i venti alla prua del Largo 2, cosa che Festus non gradì molto, e si mise a cavalcioni sulla polena, gridando «Al galoppo!». I venti sfrecciarono sulle onde. Non erano veloci come il cavallo di Hayes e Larion, ma sprigionavano molto più calore. Sollevarono un'enorme scia di vapore che quasi impediva a Jason di vedere dove andavano. La nave schizzò via dalla baia. In un baleno, l'Africa divenne una striscia confusa alle loro spalle, sulla linea dell'orizzonte. Per reggere le cavezze di vento, Jason doveva concentrarsi al massimo. I cavalli lottavano per liberarsi. Solo grazie alla sua forza di volontà li teneva sotto controllo. «Malta!» ordinò. «Andiamo a Malta!» Quando finalmente la terra comparve in lontananza, un'isola collinosa con tanti bassi edifici in pietra, Jason era sudato fradicio. Si sentiva le braccia di gomma, come se per tutto quel tempo avesse tenuto un bilanciere dritto davanti a sé. Si augurò che fosse il posto giusto, perché non ce l'avrebbe fatta a trattenere ancora quei cavalli. Allentò le redini. I venti si dispersero in particelle di sabbia in vapore. Poi, sfinito, scese e si appoggiò al collo di Festus. Il drago si girò e gli diede una strofinata con il muso. «Grazie, amico!» disse Jason. «Giornata dura, eh?» Alle sue spalle, le assi del ponte scricchiolarono. «Jason!» gridò Piper. «Oddei, hai le braccia!» Lui non se n'era accorto, ma aveva la pelle ricoperta di vesciche. Piper scartò un quadratino di ambrosia. «Tieni, mangia questo!» Jason si mise a masticare. Il sapore dei brownies freschi, il suo dolce preferito dai forni di Nuova Roma, gli si sprigionò in bocca. Le vesciche sulle braccia scomparvero. Riacquistò le forze. Ma l'ambrosia al gusto brownie era più amara del solito, come se in qualche modo sapesse che Jason stava voltando le spalle al campo Giove. Non era più il sapore di casa. «Grazie, Piper. E quanto tempo? Quasi sei ore!» Non c'era da stupirsi che fosse indolenzito e affamato. «E gli altri? Tutti bene. Stufi di starsene rinchiusi. Posso dirgli che adesso non corrono rischi a salire sopra coperta?» Jason si inumidì le labbra. Nonostante l'ambrosia, si sentiva debole. Non voleva che gli altri lo vedessero così. «Dammi un attimo, per riprendere fiato.» Piper gli si mise a fianco. Con la canottiera verde, i pantaloncini beige e gli scarponcini da trekking, sembrava pronta per scalare una montagna e poi combattere contro un esercito sulla vetta. Teneva il pugnale legato alla cintura e la cornucopia a tracolla. Aveva preso l'abitudine di portarsi dietro la spada dalla lama in bronzo sottratta a Zete il Boreade, che era solo un po' meno minacciosa di un mitra. Durante la permanenza al palazzo di Austro, Jason aveva notato che Piper e Hazel avevano trascorso molte ore ad allenarsi con la spada, attività a cui lei non si era mai interessata prima. Dopo lo scontro con Chione, Piper sembrava più tesa, come una catapulta carica, decisa a non farsi più cogliere alla spropista. Jason la capiva, ma era preoccupato. Non voleva che fosse troppo dura con se stessa. Nessuno poteva essere sempre pronto a tutto, lui lo sapeva bene. L'ultimo scontro l'aveva trascorso sotto forma di tappetino liofilizzato. Doveva essersi messo a fissarla, perché Piper gli rivolse un sorrisetto complice. «Ehi, sto bene! Stiamo bene!» Si alzò in punta di piedi e gli diede un bacio, che a lui sembra buono come l'ambrosia. Piper aveva gli occhi così screziati che Jason avrebbe potuto fissarli tutto il giorno, studiando i loro disegni cangianti nello stesso modo in cui la gente osserva l'aurora boreale. «Sono fortunato ad avere te», le disse. «Sì, è vero. Poi gli diede una piccola spinta sul petto. Ora, come facciamo a portare la nave al molo?» Jason aggrottò la fronte e guardò l'acqua. Si trovavano ancora a diverse centinaia di metri dall'isola. Non aveva idea se sarebbero riusciti a far funzionare i motori o le vele. Per fortuna Festus li aveva ascoltati. Si girò in avanti e sputò un pennacchio di fuoco. Il motore della nave si mise a sferragliare e a ronzare. Sembrava un enorme bici con la catena rotta, ma con uno scossone si mossero in avanti. Lentamente, Largodue si diresse verso la riva. «Bravo, Festus!» Piper gli diede una pacca sul collo. Gli occhi di rubino di Festus scintillarono, come se fosse soddisfatto di sé. «Sembra diverso da quando l'hai svegliato tu», osservò Jason. «Più vivo». «È così che deve essere!» Piper sorrise. «A tutti, ogni tanto, serve una bella svegliata da parte di qualcuno che ci ama». Accanto a lei, Jason si sentiva così bene da riuscire quasi a immaginare il loro futuro insieme al campo mezzosangue, una volta finita la guerra, sempre che fossero sopravvissuti e che ci fosse stato un campo a cui tornare. «Quando dovrai scegliere di nuovo, fuoco-tempesta, pensa a me», aveva detto Noto, «e non disperare». Più si avvicinavano alla Grecia, più il terrore si annidava nel petto di Jason. Cominciava a pensare che Piper avesse ragione sul verso della profezia che parlava di fuoco-tempesta. Uno di loro due, Jason o Leo, non sarebbe tornato vivo da quel viaggio. Ecco perché dovevano trovare Leo. Jason amava la propria vita, ma non poteva permettere che l'amico si sacrificasse per lui. Non avrebbe mai potuto vivere con quel senso di colpa. Naturalmente sperava di sbagliarsi. Sperava che tutti e due uscissero sani e salvi da quell'impresa. Ma in caso contrario doveva essere pronto. Avrebbe protetto gli amici e fermato Gea, a ogni costo. E non disperare. Sì, facile a dirsi, per un immortale Dio del vento. Man mano che l'isola si avvicinava, Jason vide il porto gremito di vele. Dalla costa rocciosa si ergevano argini fortificati alti fra i 15 e i 20 metri, al di sopra dei quali si estendeva una città medievale fatta di guglie, cupole ed edifici stretti l'uno all'altro, tutti costruiti con le stesse pietre dorate. Da quel punto di osservazione sembrava che la città ricoprisse ogni centimetro dell'isola. Jason scrutò le barche nel porto. Un centinaio di metri più avanti, legata all'estremità del molo più lungo, c'era una zattera di fortuna con un solo albero e una vela di tela quadrata. Sul retro il timone era collegato a una specie di macchinario. Anche da quella distanza, Jason riuscì a scorgere lo scintillio del bronzo celeste. Fece un gran sorriso. C'era un solo semidio in grado di costruire un'imbarcazione del genere e l'aveva ormeggiata il più vicino possibile al porto, dove Largo II l'avrebbe senz'altro vista. «Chama gli altri!» disse a Piper. «Leo è qui!» «Leo è qui!» «Leo è qui!»